Kung Fu Panda 3 è un cartone adatto sia ai bambini sia agli adulti. Tratta della storia di un panda di nome Po, guerriero dragone, che aiutato dal suo maestro Shifu, proverà ad evolversi, diventando un maestro di arti marziali. Durante la sua missione incontrerà una persona che lo porterà alla conoscenza di un nuovo mondo, ma a sconvolgere la sua tranquillità sarà Kai, nemico di vecchia data di Uwe, diventato amico durante il suo percorso di addestramento. Chi sei? Io sto cercando mio figlio. Papà? Dal tuo vecchio un abbraccio? Come sappiamo che è imparentato con te? Guarda qua! È come guardarsi in uno specchio ingrassante. Vieni a casa con me. Ciao, sono Mei Mei. Devi riscoprire che cosa significa essere un panda. Sì! Si parte? Vai, vai! Tipico! Dai, dai. Sto bene, sto bene. Bravo, così. Kai è tornato! Chi? Il maestro del dolore è la bestia della vendetta. Il greave dove è una casca? Vabbè. Ho lavorato con Uwe. Oh, è il maestro Uwe. Silenzio! Tu devi salvare il mondo. Io non ho modo di fermarlo. A meno di non avere un tuo esercito. Ma non conoscete il Kung Fu? E tu ce lo insegnerai. Ehi! Nessuno ha detto che sarebbe stato facile. Ti trasformerò in maestri di Kung Fu. Mi mette le rinite. Lo squadrone ravioli si apposterà qui. Al mio segnale. Lo squadrone spaghetti, sì. Questo è il punto dove ero. Va bene, questa me l'aspettavo. Questo è colui che è destinato a fermarmi. Se mi risparmiassi il qua qua, mi prenderò il tuo. Qua qua. Questo. Qua qua, 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 qua. Qua qua, qua. In questo qua qua. Dreamworks Kung Fu Panda 3. Questa è l'armatura di maestro rinuvolante. A che serve? Dovrei tirarlo. Credo di aver fatto la pipì.